Ha suonato il corriere mentre ero in queste condizioni, quindi di corsa mi sono levata la maschera, avevo la faccia che grondava e avevo levato questo, non so cosa avrà pensato di me, ma non pensiamoci. Mi è arrivato questo pacco che onestamente non sto, cioè non aspettavo minimamente, quindi non so perché mi sia arrivato. Sono fiori, perché è un pacco di Colvin, ma io non ho una collaborazione con Colvin al momento, quindi non so perché questo pacco è qui, cioè sicuramente non viene da Colvin, Colvin. Non riesco a liberare i fiori, c'è un bigliettino però, non lo sapevo, adesso piango. Voi non potete leggerlo perché è scritto al contrario, è piccolo, ma c'è scritto buon mesi diversario amore, ti amo, Lorenzo. Ma la cosa che mi fa ridere è che noi siamo insieme da tre anni, quindi questo è tipo l'ottocentesimo mesi diversario, cioè oggi. Bellissimi raga, sono i culipani, tutti colorati bellissimi. Io è improponibile questa cosa in faccia, ma costa un sacco di soldi sta macchera, quindi non la posso levare a questo punto. Non si regge più bene perché ovviamente l'ho fatto tipo attacca e stacca, ma non perdiamo la retta via. Guardate che bellini! Questa è la cosa che mi rende più felice di tutte. Per vaso. Ma che non sono mai abbastanza. Tra l'altro non avete capito. Allora, a me i tulipani in generale piacciono, ma sapete perché piacciono? Non perché sono belli, perché abbiano un buon profumo, perché chissà quale motivo, ma perché sono fiori puliti. Nel senso che io da malata, persona malata, con l'ordine, la pulizia e tutto, io non posso accettare i fiori quando si ammosciano e fanno cadere l'acqua, qualunque per terra, sporcano tutta casa. Cioè, no, nel senso, già durano una giornata e mezza belli, poi già mi si afflosciano. Quindi come minimo devono afflosciarsi con dignità. E questi sono i fiori più dignitosi di tutti. Posso dire? Bellissimi. Molto profumati, molto colorati, bellissimi. Adesso devo trovarvi un posto, ma direi che al centro del tavolo stanno benissimo. Però la cosa più bella, a me piacciono le cose scritte. Io sono un amante delle lettere, mi piacciono i biglietti, i fiori mi piacciono, però la cosa più bella di tutto è questo per me. Per me poteva arrivare anche solo questo, sarebbe stato comunque felicissimo. Adesso andiamo a mettere il mio tesoro da qualche parte. Direi che qua sta benissimo. Che belli! Che belli!